Walter Verini, capogruppo PD nella Commissione Giustizia della Camera. L'Aula sta esaminando la proposta di legge che riforma la custodia cautelare. Quali sono le novità principali inserite nel testo? L'Aula ha previsto che in giornata licenzi il provvedimento che poi passerà in Senato. La principale novità è che noi vorremmo evitare che innocenti o presunti innocenti, perché fino al terzo grado di giudizio siano sottoposti a regime di custodia cautelare e preventiva quindi prima di essere davvero considerati colpevoli. Come è noto in Italia ci sono il 40% di detenuti in attesa di giudizio sull'intera popolazione carceraria. Gran parte di questi detenuti scontano questa come unica pena perché poi magari vengono assolti successivamente nei diversi gradi di giudizio. Noi con questo provvedimento ci allineiamo all'Europa, rendiamo più stringente il campo di applicazione, non cambia nulla dal punto di vista dei reati, ma responsabilizziamo di più i magistrati, puntando sul carcere come estrema razio. Quando misure alternative, interdittive, come si dice, il divieto di espatriare, il divieto di esercitare la professione, il divieto di, se è un pubblico ufficiale, di riprendere il proprio lavoro, quando queste misure alternative vengono ritenute per le modalità del reato, per la concretezza di reiterazione dal magistrato non sufficiente, allora lì può scattare la custodia cautelare, ma davvero come estrema razio. Questo credo che sia un provvedimento garantista, civile, che non a caso ha avuto un iter complesso, abbiamo discusso con tutti, ci siamo confrontati con le Camere Penali, con l'Associazione Magistrati, anche perplessità legittime sono state superate. Con questa legge l'Italia avrà garanzie per i cittadini, un rispetto autentico della Costituzione, contribuirà a diminuire il drammatico sovraffollamento carcerario, e quindi daremo un contributo di civiltà e di giustizia giusta, di cui si sente un gran bisogno. Eppure l'Associazione Nazionale Magistrati ha espresso qualche perplessità? Sì, come dicevo, nelle audizioni, nelle prese di posizioni pubbliche, perché il provvedimento, ormai è qualche mese che era in gestazione, ci sono state prese di posizione, preoccupazioni giustamente e legittimamente espresse, ma al termine, mi pare, anche per il dibattito d'Aula, a parte qualche intervento, come dire, un po' di prammatica, forcaiolo, come da copione della Lega e poco più, mi pare sia matura la consapevolezza che si tratti di un provvedimento equilibrato, un provvedimento di grande civiltà giuridica, un provvedimento che, come dicevo, allinea finalmente l'Italia al resto dell'Europa. E i cittadini italiani sono cittadini europei, non possono essere trattati diversamente. e i cittadini italiani sono cittadini italiani. Grazie a tutti.